Ok, allora lui vi ha già detto appunto di questo mio pseudo passato, ho una metà vita fatta come ricercatrice storica, mi occupavo di dati, di fonti archivistiche, di riordino di archivi e da una decina d'anni faccio lavoro principalmente con gli e-commerce. Innanzitutto volevo chiedere quanti di voi sono dell'area tech e quanti invece di tutto il resto? Alzatina di mano, tech, 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 ok, invece marketing, content, strategy, ok, ok, benissimo. Io non sono una tecnica evidentemente, sono nata appunto come una formazione umanistica, però a un certo punto sono diventata un e-commerce manager, ne sono stata parecchi anni interna ad un'azienda, che significa che prima di essere una freelance io sono stata una cliente ed essere cliente mi ha portato a sperimentare sulla mia pelle che cosa poteva voler dire, per esempio, un tracciamento impostato male. Quindi sono partita da un presupposto, questa diciamo è una domanda un po' retorica, c'è chi pensa che gli e-commerce siano dei siti con un carrello o dei siti a cui a un certo punto viene aggiunto un carrello e chi pensa che siano delle aziende. Non è per forza giusto o sbagliato una delle due ipotesi, però sono due mindset diversi che portano sicuramente a delle euristiche diverse e anche a dei bias diversi, quindi a delle scorciatoie anche errate nell'interpretazione di quello che possono essere i dati e anche gli obiettivi di progetto. Io come marketer sono orizzontale alle piattaforme, il primo e-commerce per cui ho lavorato, è nato nel 99, quindi per togliere una taglia si faceva un array di PHP bei tempi. Poi non c'erano proprio i CMS, però io sono orizzontale, so che io mi trovo nella maggior parte delle volte in questa posizione qua. Cioè io sono quella che arriva per cercare di capire come sono stati impostati i giochi e a cui molto spesso viene chiesto di parare quello che è successo. Quindi arrivo dopo, non ho quasi mai scelto io piattaforma, tema, plugin, molte cose sono state impostate. Purtroppo, io lavoro con micro e piccole imprese ovviamente, purtroppo spesso mi arrivo anche quando proprio l'e-commerce è online da un anno, magari anche fatto campagne, i costi non sono sostenibili. L'e-commerce per cui ho lavorato mi ha chiamato perché stava cominciando a mettere la gente in cassa integrazione a rotazione. Ovviamente quando me ne sono andata aveva assunto una decina di persone, però questo è il grado di empatia che io ho quando si parla di clienti. Che il tracking dei dati sia importante lo sappiamo tutti, messi io la palissa, ce ne riempiamo letteralmente le tasche e la bocca. Citiamo Deming, se non mi porti dei dati le tue sono opinioni. In realtà poi che cosa succede? Che è più facile che un sito abbia un piano editoriale piuttosto che un piano di misurazione. E' vero. E nella maggior parte dei casi i marketer non sono, come dire, proprio illuminati da questo punto di vista. Possono essere i primi ad arrivare a impostare campagne, a decidere strategie, a ragionare su quali siano gli obiettivi di fatturato, senza che sia stata fissata la parte di misurazione prima. E quindi prendono delle cantonate incredibili. Ok, però, cosa significa tracciare bene? Questa è una faccia di perplessità e sconforto. Perché dipende? Dipende anche dal cappello che abbiamo in quel contesto, no? Se siamo un cliente, tracciare bene significa solo che corrispondano i valori delle transazioni su Analytics. A lui non gliene frega assolutamente nient'altro, no? Se sei invece uno sviluppatore, puoi comunque avere un obiettivo diverso, comunque di pulizia del dato, di accuratezza. Se sei un marketer, hai bisogno che tutto sia più o meno a posto per poter fare delle, per prendere delle decisioni. Non c'è, dal mio punto di vista, appunto una risposta unica. Dipende sempre dal progetto, dal team e anche dal grado di potere e il grado di influenza e di libertà che si ha in quel progetto. Molto spesso io da marketer entro quando l'agenzia o lo sviluppatore che ha fatto il sito è già bello che è andato. E magari hanno anche, come dire, troncato i rapporti, esatto, e quindi non si capisce. Ci sono tutta una serie di impostazioni. Una però delle criticità sulle quali io personalmente impatto di più e che negli anni mi ha portato comunque a fare alcune riflessioni è questa. L'effetto Silos. Sapete tutti cos'è l'organizzazione a Silos delle aziende. Aree verticali distinte per competenza. È un tipo di organizzazione, di modello organizzativo che si usa tantissimo anche nelle, soprattutto nelle aziende grosse, strutturate, negli IT. Ormai comincia a essere demonizzato perché è un po' il contrario, sono un po' i compartimenti stani, contrario ad una visione olistica che nella maggior parte dei progetti e delle aziende invece è importante avere. Mi segnalo, giusto perché sono profondamente innamorata di lui, un articolo di Luca Rosati, che è un architetto dell'informazione. Insomma, cita, se voi lo cercate, sul suo sito, no all'effetto Silos nelle aziende e cita poi tutta una serie di fonti, no? Dal punto di vista di organizzazione di progetto. Che cosa significa per me l'effetto Silos? Nelle piccole aziende, nei piccoli team, nei piccoli progetti è ancora più dissonante perché, voglio dire, si tratta di cinque persone che lavorano su quel progetto, dieci al massimo. Quindi dire, ah, questo non spetta a me, questo doveva farlo quello di prima, no? Sono tutti paletti che dal mio punto di vista a volte diventano un po' un alibi per la mancanza di una visione di progetto, cioè per mancanza di competenze di progetto, no? Quindi ragionare a compartimenti stagni per me è sempre stato uno dei, appunto, dei problemi maggiori nell'organizzare comunque sia il tracciamento che per me il marketing. Io dal punto di vista proprio di quello che è il mio obiettivo è far vendere di più, evitare che si vada in cassa integrazione e rotazione, il primo andare è sempre magazziniere, quindi mi dispiace. Però, appunto, come si può fare? Il tracciamento per me è un ponte tra questi stilos, è uno dei momenti in cui si può e si deve gettare un ponte che superi l'organizzazione di questo tipo, quindi cercare di mettere insieme, no? L'ottimizzazione non è locale, è globale, cioè riguarda tutti i pezzi di quell'azienda. In questo senso, appunto, a livello di ponte, purtroppo ci sono a volte degli schieramenti un po' precisi, no? Cioè, io vi cito, ho messo poi la citazione, vi cito una ricerca, la fanno tutti gli anni, ce ne sono mille, comunque, di questa azienda che si chiama Sandgrid, che è un'azienda che sviluppa software, non so neanche di che tipo, che però ogni anno fa una ricerca su come va questo rapporto, no? Cioè, giocano nella stessa squadra, non giocano nella stessa squadra. In realtà, il rapporto tra marketer e sviluppatori, ormai si è capito che è super strategico e anzi, impatta tantissimo i risultati del business. Loro fanno questa ricerca tutti gli anni, più un campione di più o meno 500 intervistati, tra marketer e sviluppatori, riescono fuori, insomma, un po' i bias e le opinioni che sappiamo esserci, no? I marketer che dicono, sì, ma lo sviluppatore non ha la ben minima idea del progetto, degli obiettivi di progetto. Invece, gli sviluppatori che dicono, sì, questi arrivano, mi dicono di implementare delle robe a caso. Il problema più grosso, in genere, è cercare di trovare un'armonia tra quello che è il time to fix e il time to market, no? Che sono normalmente un po' due argomenti distinti. Il fattore tempo, quindi, è uno degli aspetti più importanti. Fondamentalmente, però, che cosa succede? Che sia il marketer che gli sviluppatori sono davanti a delle sfide. Non so quanti di voi si interroghino sulla direzione che deve prendere il proprio lavoro nei prossimi cinque anni. Io, personalmente, tutti quelli che conosco sono lì a dire, ma vado più di là, vado più di qua. Cioè, per come si sta muovendo, è il machine learning, è il data driven. Certi tipi di prassi lavorative non sono più tanto sostenibili. Dal punto di vista dei marketer c'è bisogno di mettere un po' più le mani in pasta. Dal punto di vista degli sviluppatori, lo splendido isolamento forse è un po' finito. Quando ci sono dei cambiamenti in atto, Papa Freud insegna, insomma, siamo tutti figli del Novecento. Non nascondiamoci. Nascono meccanismi di difesa. Cioè, se io, e anche nel lavoro ci sono, anche nelle nostre prassi. Quindi, nel meccanismo di difesa sviluppo resistenza. Non voglio. A questo punto, però, questo dovrebbe essere l'obiettivo. Cioè, passare da due schieramenti distinti a, insomma, una relazione che sia efficace. Dal mio punto di vista, una relazione efficace è anche una relazione empatica. Cioè, Rogers, che è uno psicologo umanista americano, che ha lavorato tanto negli anni Sessanta, definisce empatia come la capacità, la possibilità di entrare nel mondo di un altro, sentirlo e vederlo con i suoi occhi, come se fosse il proprio. Ma senza mai perdere la qualità del come se. Cioè, stabilire una relazione che sia anche empatica non significa appiattirsi sugli obiettivi dell'altro. Significa proprio acquistare un altro paio di occhi. Io, da e-commerce manager interna e da marketer ora, sono costretta ad avere uno sguardo strabico. Cioè, guardare tante direzioni. La mia, ovviamente, perché c'è il mio margine, il mio lavoro, la mia qualità del lavoro, il magazziniere che non deve essere licenziato, e però la relazione con le persone con cui lavoro. Allora ho detto, vabbè, io ovviamente ho un pensiero, una procedura, un metodo, che negli anni, insomma, cerco sempre di migliorare, però ho deciso di fare delle domande tempo fa a un campione veramente molto piccolo, quindi nessuna pretesa qualitativa, sono solo qualitative, diciamo, le risposte. Una ventina di sviluppatori, perché quelli sono un po' quelli con cui lavoro, e gli ho fatto delle domande a caso, anche la griglia andrebbe un po' rivista, però, domande in generale, quali sono i problemi del tracciamento degli e-commerce? Ho selezionato solo alcune delle risposte che ritengo interessanti. Allora, la maggior parte di questi ha messo nel segreto dell'urna, nell'anonimato, del questionario, che la web analytics proprio non la quotano, aspetta che gliela chiedano. Quindi un sito può essere licenziato, tra virgolette, il cliente dice, ok, ho fatto il sito, è a posto, me l'hanno consegnato, e non ha web analytics installata. Questo per me è drammatico. Poi, altri suggerimenti, che insomma, poi le slide le avrete, li vedrete. Quali sono i difetti di un marketer? In generale, è qua. La bassa conoscenza delle piattaforme, il fatto che comunque non si chiedano mai prima che cosa tracci in autonomia al sistema, e comincino a chiedere implementazioni a Babo, anche quando in realtà ci sono già, che delegano troppo, che non sanno bene cosa tracciare, che non fanno una checklist, o comunque un documento con le principali specifiche e bisogni. Insomma, io ho sottolineato, ovviamente appunto, ripeto, non è un'indagine quantitativamente significativa, però a me ha dato comunque degli input, perché io ho elaborato una procedura, che è una ricetta personale, un piatto di spaghetti con anche dell'insalata, quindi sicuramente non è una cosa perfetta e perfettibile. Però io ho cercato di vedere questo tipo di problema del tracciamento come un problema di design, non solo occuparmi del design esterno, quindi delle campagne, ma anche del design interno del mio lavoro. Il primo punto è un ripasso sul fatto che il ciclo della web analytics, che tutti dovreste più o meno conoscere, non serve per far lavorare i marketer o gli sviluppatori, ma serve per avere degli insight rilevanti su cui prendere delle decisioni. Per avere un insight rilevanti io devo avere dati accurati. I dati accurati sono in un mondo perfetto, ci sono dati accurati affidabili, questo non è un mondo perfetto, la famosa soglia del rumore al 5% per molti siti è un'utopia, assolutamente, però l'accuratezza del dato è il primo punto per le misurazioni. Fixare prima di testare, ovviamente, io sono quella che deve testare. Quindi, il ciclo della web analytics, va bene, ripassiamolo. Poi, io, ovviamente, ci sono mille procedure e mille pratiche, il mio consiglio è sempre, comunque, partire da una dimensione territoriale, soggettiva, cioè capire qual è la tua di procedura, oppure declinare la procedura a seconda anche della persona con cui lavori, perché possono avere esigenze diverse. Il territorio insegnava nell'arte della guerra è la prima cosa da conoscere, no? Ok. Io la cuoto tutte, eh, ste robe. Cioè, non faccio niente gratis, nel senso che molto spesso, come nella risposta di alcuni sviluppatori bassi, me la chiedono, la cuotano. Tu cuotala, poi magari non te la fanno fare. Ho diviso più o meno tre passaggi, sono tre livelli sia di impegno che di profondità e non tutti sempre sono realizzabili. Da una mini-audit, che è comunque un overview veloce su alcuni dei dati del tracciamento, poi invece una checklist, un piano di misurazione condiviso, e poi, semmai, anche un piano di implementazione da condividere con il team di sviluppo. Ho messo questa, che è una mappa delle fortificazioni di 20 miglia del 1350, perché io, appunto, mi ho passato, il supporto scrittorio non è importante. Cioè, queste cose si fanno sulla qualunque, Asana, Trello, Basecamp, un foglio di calcolo, le tavolette di cera. Questo, oltretutto, è anche una mappa disegnata male, però è la mappa che sta all'interno di un trattato tra Carlo D'Angio e la Repubblica di Genova. Non è che avevano bisogno di essere precisi, cioè, sapere di che cosa parli, segno quali sono le fortificazioni, e ci siamo. Quindi per me è importante ragionare sul fatto di produrre documentazione. Per me la documentazione è un altro ponte, e oltretutto sappiamo che agli sviluppatori dovrebbe piacere avere documentazione. Velocemente, sono punti, diciamo, per me importanti, però sono anche scritti in maniera randomica. Ognuno, ovviamente, si deve fare la sua, però vi racconto solo un po' di quello che è la mia. Primo luogo, controllare che io abbia gli accessi a tutto, perché molto spesso i marketer fanno stime senza neanche guardare l'analytics, quindi intanto io invece voglio un accesso, anzi, se possibile, anche un utente di test, perché voglio provare il carrello, Frega, sai, no? Sandbox, Paypal, devo provare per poter capire qual è la canalizzazione da impostare. Che ci siano le viste corrette, che ci sia una vista di test su cui io posso lavorare, che ci siano dei filtri sugli IP, perché io non voglio comunque avere, insomma, cercare di togliere il rumore. Il protocollo che si ha, HTTPS, non solo nelle proprietà, ma anche nelle viste. Questo è uno smarrone che ho visto cadere sviluppatori che voi non vi immaginate, che non avevano valute dollari impostate. rimaste così, il default, no? Cioè, classico. I referr, se ho dei referr a sporchi, mi faccio un giro con Tag Assistant. La struttura dell'account, i marketer la sottovalutano sempre, no? La best practice di Google dicono tre. Cioè, una raw, una filtrata e una di test. Io su quella di test insisto sempre molto, perché anche io devo fare dei test. E poi vado avanti, ovviamente, la qualità dei dati di traffico, se ci sono delle campagne, ovviamente vado a vedere, perché molto spesso mi chiamano quando hanno già speso inutilmente dei soldi e quindi io devo andare a capire i colleghi cosa hanno fatto. Quindi, se ci sono discrepanze tra clic e sessioni, se ci sono il doppio, più o meno, di page view rispetto alle pagine uniche, io vedo magari due tag analytics e dico, oh, oh, forse che, cioè, lo sviluppatori dice, no, lasciamo lì, tanto lo stesso, no? Sì, c'è universal e g-tags. Poi vai lì e dici, guarda che però ti porta ad avere due sparate prima e quindi ho dei dati comunque corrotti di visualizzazione di pagina. La qualità dei dati delle vendite è la prima cosa, c'è l'e-commerce, sì, quello standard impostato, sì, quello enanseda anche, la canalizzazione non c'è quasi mai. Se posso, mi faccio anche dare, se non ho accesso al back-end, un mese di campione, di campionamento di vendite per valutare che transazioni e valori siano corretti. Questo è un giro. Io lo faccio comunque, perché se no, non posso immaginarmi delle campagne se non guardo prima quella roba lì, cioè, sto ragionando troppo top-down, Cioè, ti faccio uno schemino e te le faccio. No. Anche perché poi dopo tutto ritorna a boomerang, no? Se io per caso, in alcuni progetti dove non ho la possibilità di entrare in analytics, diventano un bagno di sangue poi dopo. Dati di questo tipo, un sacco di vendite, tutto bello tracciato, prodotti su pagine not set. Boh, no, non so, questo è così un esempio che mi è capitato poco tempo prima. Poi posso passare ad un piano di misurazione, comunque una checklist per me più approfondita e ce n'è a mille, La prima cosa, una cosa che io ho capito, non c'è un puntatore qua, qua, ah sì, eccolo lì, una cosa che ho capito che interessa molto è questo. Innanzitutto andarmi a vedere che cosa c'è già di tracciato, perché se no, io rischio di fare delle richieste inutili e far perdere tempo a tutti. Poi le KPI per un e-commerce sono scontrino medio, dipende dall'obiettivo, dobbiamo far tornare il cliente oppure vogliamo che aumenti lo scontrino. Per me sono due strategie abbastanza diverse, quindi ho bisogno di valutare bene i dati, quindi devono tornare i dati economici. Quali sono i tracciamenti eventualmente da implementare, le microconversioni, che sono tutti quelli a sfilza di eventi che poi in qualche modo bisognerà riuscire a tracciare, definisco un piano di implementazione condiviso già con le persone con cui lavoro. A questo livello se io non ho uno sviluppatore lo devo coinvolgere, perché se no non andiamo avanti. Un piccolo focus sui filtri, perché i marketer non ci guardano mai, non ho mai visto, o non ho visto una volta sola, l'IP di un'agenzia tolto dagli analytics, dai clienti, quando magari poi ci lavorano in venti. piccole agenzie, le grosse, non è vero, non era così piccolo. Però, quindi filtri, sito, mi serve avere anche a me appunto una vista di test, perché poi magari, tanti filtri, anche quello di casa del titolare, meglio toglierlo, che sarà sempre lì attaccato a suo sito. Mi serve una vista di test, perché io devo fare dei test anche sui segmenti avanzati, devo capire i cluster dei clienti, però non è che le buyer persona me le invento quasi mai, me le hanno date fatte, semmai ci sono degli archetipi, delle proto, buyer persona, fatte malissimo, da un'agenzia di comunicazione, però io in realtà appunto devo farmi fare una vista, perché io devo anche provare. Se non c'è una vista di test, facciamola, che io provo anch'io lì dentro. Segmenti di pubblico sulla proprietà, a volte mi è capitato di non avere i permessi sulla proprietà, quindi dovevo chiedere, guarda scusa, non me li hanno ancora dati, perché il cliente insomma ha i suoi silos, lo sviluppatore ce l'ha, me li devi fare, però ti devo dare uno schemetto, perché ci sono tutta una serie di considerazioni importanti su appunto il tipo di segmento di pubblico che mi interessa. Se non ti do lo schemetto, tu potresti, come spesso succede, importarmi una bella libreria che sono fatte benissimo, ma vanno filtrate, perché poi ci si trovano 700 segmenti che non si popolano, che non vengono utilizzati. Le librerie sono buone, però bisogna sempre un po' ragionarci. Poi altri aspetti molto importanti ovviamente per un e-commerce è la mappatura degli eventi, perché qua ci stanno le micro conversioni e anche comunque tutte le azioni significative su cui poi si baserà il marketing e anche ovviamente le conversioni, perché poi arriviamo al tracciamento dell'e-commerce. Gli eventi, allora prima cosa è quali sono gli eventi già settati, perché ovviamente ci sono dei plugin e dei moduli che fanno già un ottimo lavoro. Magari anche lì prima di installarlo ci si può confrontare per evitare di popolare e di eventi inutili che magari poi non servono al funnel di conversione. Eventualmente se dovessero esserci degli eventi da implementare, definire insieme la nomenclatura, esattamente il punto, per non lasciare comunque niente al caso o è un risparmio di lavoro. Anche le tipologie di implementazione, ovviamente io a me non interessa come le implementino, nel senso importante che sia chiaro dove devono essere. Però, voglio dire, se già non si usa Tag Manager e io arrivo con uno schema di 12 eventi da implementare, mi devo un attimo porre il problema del carico di lavoro che questo comporta. Obiettivi, ovviamente, eventi per vista, però è importante che siano funzionali a quelli che sono gli obiettivi del marketing. Una volta che ci sono gli eventi, però normalmente poi si creano obiettivi corrispondenti. I più importanti sono gli obiettivi sul funnel, quindi comunque quelli che hanno a che fare con gli eventi dell'e-commerce in Ansed, con la canalizzazione impostata, se c'è, oppure si possono comunque piazzare a mano. Dopo gli eventi, vabbè, gli obiettivi, per avere un quadro di obiettivi, insomma, lì sono due e-commerce con due processi molto diversi, due logiche molto diverse, quindi step del checkout, obiettivi sugli utenti, dipende. Poi, ovviamente, il grande mostro è l'e-commerce standard, cioè l'e-commerce. L'e-commerce standard è una stupidaggine da implementare, la maggior parte dell'e-commerce ovviamente ce l'ha, l'e-commerce avanzato invece presenta qualche criticità in più, ci sono dei moduli che funzionano benissimo, bisogna semplicemente fare attenzione poi a impostare anche la canalizzazione su Analytics, che è una cosa che non si fa mai, quindi una volta impostato il monitoraggio e-commerce bisogna comunque utilizzare le stesse etichette che vengono utilizzate nei passaggi di checkout anche per definire le variabili e le dimensioni personalizzate su Analytics, quindi impostazione dell'e-commerce molto molto semplice, la canalizzazione invece va fatta a manina e non è, capisco, è un po' banale, però serve per arrivare qua, per arrivare ad avere un'analisi di comportamento di checkout su cui poi ci sono delle segmentazioni avanzate che consentono di comprendere meglio quali sono i tassi di abbandono del carrello, la maggior parte degli e-commerce non sa neanche perché vengono abbandonati i loro carrelli, la maggior parte dei marketer passa un sacco di tempo a fare analisi di strategia prima che sia affixata la parte di misurazione e quindi diventa poi un po' tutto così. Questo serve per avere semplicemente dati coerenti e da analizzare su le transazioni con i valori, le cose giuste, le quantità giuste e anche sugli articoli prodotti, eccetera, eccetera. Lo strumento di e-commerce avanzato lato marketer comunque ha delle piccole aiuti, ci sono ovviamente il troubleshooter che è molto basico però evita di creare dei falsi allarmi, cioè nel momento in cui ti dicono è stato impostato l'e-commerce in answer vai un po' a vedere e chiaramente hai un'idea di quali potrebbero essere i due. E anche il Google Merchandise Store aiuta a capire un po' come dovrebbero essere fatte le cose. Il remarketing è un altro argomento molto strategico importante per un e-commerce per attivare le funzioni pubblicitarie e consente in Analytics di attivare semplicemente il remarketing quello statico per quello dinamico di prodotto quindi probabilmente legato a delle campagne shopping e quindi con la dinamicità della visualizzazione prodotto visualizzazione banner bisogna invece fare un po' di lavoro cioè aggiornare i tag della pagina del prodotto con gli attributi specifici per quel verticale per esempio per un e-commerce normale appunto ci sono uno è quello fondamentale lì del prodotto che comunque appunto va impostato questi sono facoltativi però sono importanti perché definiscono sia il livello di navigazione di quell'utente sia anche ovviamente il valore totale della pagina che ha visto per impostarli le cose sono abbastanza chiarificate poi adesso non vi sto appunto a spiegare come funziona Analytics perché ci sono fiori di guide e di suggerimenti queste sono le variabili che io devo andare a controllare che siano state emesse e vado anche a controllare che tornino rispetto a appunto quello che vedo sulla pagina questo è importante perché molto spesso magari si implementa come variabile del product ID che ne so l'ID sequenziale la chiave primaria del DB del catalogo e poi invece il feed di Google Merchant Center passa allo scu e quindi si crea un mismatching che dal mio remarketing dinamico me lo fa diventare bello generico e quindi è come non aver fatto nulla questo è il mio output è un documento che mi porto dietro rimaneggiato fatto è molto semplice sono un po' emozionata nel farvelo vedere perché è proprio un po' una roba casalinga da dieci anni me lo porto dietro l'ho iniziato a fare quando ero io lì dentro e quindi serviva a me farmi una checklist cioè un elenco di cose da fare poi negli anni questo vabbè è un po' così si è ovviamente modificato è diventato diventa anche insomma è un po' liquido diventa quello che deve diventare non ha una pretesa di identità definita è un po' chiaramente cross e soprattutto però una cosa importante questo io lo condivido con i miei amichetti sviluppatori e l'importante è l'elenco delle priorità cioè definire poi ci sono tantissimi modi per comunque ragionare sulle priorità non so se conoscete il metodo ICE cioè ci sono tantissimi modi per ragionare questo è molto semplice chi la fa e chi la fa la spunta cioè in qualche modo è una stupidaggine però questo è un altro grosso ponte per me perché adesso non so le risposte c'è anche chi la chiamiamo la lista della spesa iniziamo un progetto ok mi mandi la lista della spesa questo per me significa che siamo sulla stessa pagina io te la mando tu la guardi poi lì ci lavoriamo però devo avercela chiara per primo io marketer e poi la condivido questo è l'obiettivo no? cioè siamo tutti comunque parte della stessa squadra no? e anche riuscire comunque a essere generosi in quello che in quello che si fa molto spesso sia i marketer hanno per scontato tutta una serie di cose che non lo sono idem però gli sviluppatori e io finisco anche in anticipo così tiè grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti